Non so quanto serva. Cosa stai facendo? Tu non vivi nel mondo in cui credi di vivere? Gekko, ho rivestiti, ti prego. La cosa potrà sembrare strana, parecchio strana, ma cose molto più strane accadono ogni giorno. Credimi. Ho risolto un problema. Volevate partire, che ti aspettavi che facessi. Ma non capisci quanto l'hai messo in pericolo? I monturi...